Mi avete richiesto in tanti, a Max, che vi posso regalare al mio amico, alla mia amica, moglie e marito, fratelli, sorelle, che gli piace tanto cucinare e io qua, che ci sto facendo, mi do una dritta le dritte sono quelle che io normalmente uso nella mia casa, vedete i miei video ricette allora, paletta, bella, legno e silicone mi ci trovano tanto belle, belle consumate, queste cose usate eh poi, quelle tutte a legno, che mi trovano bene perché stacca bene e quando si attaccano le cose sul fondo poi, la molla, la pinza, questa l'avete visto, ci viene sempre fuori la pasta longa e anche per le carni è buono, perché poi anche le pastiche non graffiano niente poi, a me piace da morire, rossa, bella, colorata, la potete mettere pure a tavola questa qua è la teglia da forno e un porcellano, però sono belle, sono, belle roburte poi, ah ah ah, le grattucce, quelle che gonfiano, ci stanno le grattucce quella sottile sottile, queste qua per le bucce, le scorze dei lime, dell'arancia poi, quella che gonfia bene bene il parmigiano, il pecorino, come dice noi poi, vedete questa, ha tutte quante, hanno dei fori diversi, questa qua per cioccolato è fantastica sia questa che quest'altra, sono veramente perfette e poi c'ho questa qua, che ha tutte e quattro le, le, i buchi diversi, vedete quello grosso, addirittura quello maffettato poi, quando fai spezzatini, arrosti, stufati e cose del genere zuppe, lunghe cotture, yeah! c'ho queste ventole di chiesa bellissime, che mi sono bene difetto? pesano, però, sono tosto poi, questa per due o tre persone e questa invece per quattro o sei persone qua, non devo stare in tanti poi, la wok che uso sempre io, oh, non so anni che uso ha fatto duecentoventi ricette, per esempio, allora è ancora il nuovo, eh, il nuovo questo qua è stato tutto poi, proprio se proprio non mi piace niente, a secondo il budget che avete dalla valentina, alle cose un po' più sostenute per le persone che amate di più ci sono anche queste, le magliettine, le volete, cioè senza maglietta, non si cucina, ragazzi, questo è fondamentale senza questa, dannate, non si può cucinare un bacio e un abbraccio da tutto lo staff di Cassa Mariota Camera Woman, Mariuccio, siamo in tre un soffimo di più, buone feste a tutti quanti! Grazie a tutti!